Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono il lanciere e oggi andrò a presentarvi la nuovissima collezione Adrenalin Panini relativa alla stagione 2020-2021 della Liga Santander. Questo è il mio primo video, quindi mi raccomando, fate tanto passaparola e se siete soddisfatti mettete un like e commentate. Oggi con voi procederemo allo spacchettamento del Megapack che contiene il raccoglitore con le card e la Team Box, ormai un classico di questo tipo di raccolte. Inoltre procederemo all'apertura del Platinum Compact Box 2021 e alcuni pacchetti contenuti in questo simpatico e praticissimo blister che al suo interno ne contiene ben 8. Ovviamente partiamo dal Megapack. Troveremo il raccoglitore, alcune bustine di card, la guida, il campo da gioco e 3 card in edizione limitata che possiamo trovare soltanto all'interno di questo pacco. Eccolo qua. Fantastico. Mettiamo da parte. Eccolo qua. Il tavolo da gioco. Vediamo la parte più interessante. La checklist. Praticissima. Compatta. Ben 5 bustine. Ovviamente versione omaggio. E le card in edizione limitata sono le prime che andremo ad aprire. Bello il pacchetto per contenerle al loro interno, in modo che non si rovinino. Ed eccole qua. Vediamo quest'anno chi sono. Eccola qua. La card di Rakitic. Molto ben fatte. Abbiamo il blaugrana Coutinho. E Williams. Dell'Atletic League Bilbao. Molto molto belle. Ecco qua. E' il turno della team box. Ragazzi. Le team box sono tra gli oggetti che più mi piacciono. Sono fatte davvero bene. E al loro interno ci possiamo conservare di tutto. Vediamo un po' quest'anno cosa andremo a trovare all'interno della team box. Allora qua. Subito la card in edizione limitata. Allora. Troveremo ben 45 card. Di cui 4 card in edizione limitata. Che sono esclusiva della team box. Quindi ragazzi. La team box è assolutamente da acquistare. O subito dietro abbiamo visto che ci sono i badge. I badge delle squadre. Molto bene. Ecco. Questa è una cosa che in Italia manca da qualche anno. E manca tanto. Perché a me piacciono tanto vedere i badge. Sicuramente a livello di card potrebbero non essere utilissimi. Però ragazzi. Non volete mettere e iniziare una pagina di una squadra con il suo scudo. Allora. Presentiamo subito le card. Oh. Novità. Novità Adrenaline. Presentata in Spagna. L'edizione limitata alla Rocky Card di Musa. Eccola qui. Eccola qui Musa. Giocatore del Valencia. Rocky Card. Prima apparizione per lui. Abbiamo Carrasco. Atletico Madrid. Il centrocampista dell'Atletico. Il fortissimo Hazard. Del Real. Iago Aspas. Ragazzi. Questo è un fenomeno. Questo è un fenomeno. Celta di Vigo. E poi abbiamo un bel blocchetto di card. Andremo a vedere rapidamente. Rapidamente. Queste sono le card base. Ne sono tante. Buono il look quest'anno. Le card sembrano fatte molto bene. Un vecchio ricordo del campionato italiano, ragazzi. Condobbia. Titano dell'Atletico Madrid. Una e Simone. Card factor goal. Vediamo Soldado. L'attaccante del Granada. Questa è una card super eroi. Ancora una card dell'Atletico Bilbao. Colossos. Il terzetto di giocatori dell'Atletico Club. Vediamo altri card base. Andiamo avanti velocemente. Tipo Courtois. Una card super crack. Molto simile alle card limited edition. Ci si potrebbe anche un po' confondere in effetti. Comunque fatte molto bene. Due. Tre super crack con Modric. Card diamante. Le abbiamo già viste apparire in diverse collezioni. Tra queste anche la raccolta adrenalin della Premier League di quest'anno. Qua il giovane Pedri. Del Barcellona. Vediamo. Abbiamo due scudetti. E la bellezza di quattro card idolo. Ok. Questa è una scoperta. Potrebbe contenere le card platinum che vediamo ormai da qualche anno anche in Italia. Andiamo a scoprire il suo contenuto. Ancora una card Rocky. Lui è Milla del Granada. Al centro di una pista del Granada. Rocky card per lui. Prima apparizione. Sulle card figurine della Panini. Card platinum 2021. Giocatore con l'attivo. Più partite nella Liga. Ragazzi Joaquin. Ragazzi questo era ed è ancora un grande calciatore. Chi è che se lo ricorda nei FIFA o nei PES di qualche anno fa? Ragazzi sulla fascia era devastante. 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 Ottima. Bellissima novità. La card platinum 2021. Ancora una card in edizione limitata. Prendiamo qua. Giordi Alba. E. E. Gaia. Gaia del Valencia. La difensore del Valencia. Edizione limitata. La team box. La team box platinum contiene alcune delle card attualizzazione. Attualizzazione sono le card novità, gli aggiornamenti. Queste card sono 100 card. Ragazzi 100 ve lo dico in anteprima. Non sono presenti sulla guida della checklist Adrenaline classica. Ma sono 100 card di nuovi giocatori arrivati dopo l'uscita delle prime card contenute nel raccoglitore. E. E. A tra loro ci sarà anche il nuovo ballon d'oro e il pallone d'oro firmato. Vediamo un po'. Card supereroe. Un'altra card fattore goal. L'abbiamo trovata una anche prima. Card team base. Abbiamo altre card speciali. Abbiamo due card super crack. Coppie ansufati. Due card diamante. Anzi sono molto belle queste card. Brillano tantissimo. Due stemmi. E ben tre card idolo. Questa ce la ricordiamo. L'abbiamo vista già prima. Quindi è una doppia. Abbiamo detto che abbiamo il blister. Le card, i pacchetti costano un euro l'uno. Ne troviamo otto all'interno di questo pratico blister. Eccoli qua. Quindi abbiamo da aprire la bellezza di 13 pacchetti. Lo stemma del Siviglia. Una card titani. Quattro card base. E due card speciali. Sei card per noi. Ragazzi andremo ad aprire le otto, gli otto pacchetti che sono usciti nel nostro blister. Isak, il diamante della Real Sociedad, ragazzi, lo svedese. Ancora un idolo. Quattro card base. Card promozione. Una card supercrack ancora. De Jong. Ancora Barcellona. Lo stemma dell'Elche. Già l'abbiamo visto. E quattro card base. Modric. Sicuramente la card più importante. Bene, procediamo. Io spacchetterei all'infinito. Ancora una card diamante. Una card idolo. Sono 36 idoli. E dovremmo avere le quattro card base. Michele Ricco. Vediamo. C'è una card speciale in meno. Sì. Stavolta abbiamo cinque card base. E una card speciale. Card supereroi. Turboman. Il terzetto di giocatori dell'Atletico. Questa e questa. Eccola qua. La campion card è il trofeo della Liga. Ragazzi, la card numero 471 vale ben 20.000 coin. Se giocate anche online. Quattro card base. Ragazzi, un altro paio di pacchetti. Ancora un'idolo. Ancora un'idolo. Maximovic. Cinque card base. Sergi Roberto. Abbiamo trovato un po' di giocatori del Barcellona. Mi sa che anche questo l'abbiamo visto prima. Stemma dell'Eibar. Un idolo. E quattro card base. Ragazzi, al momento questo è tutto. Vi aspetto prossimamente con nuovi video. Cercheremo di trovare il box contenente i 48 pacchetti della Liga. Spero che il video vi sia piaciuto. E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa raccolta. Se vi piace. Se la state facendo anche voi. Buona collezione a tutti. Ciao.